Grazie, le informazioni essenziali ma fondamentali per la buona riuscita della manifestazione di questa mattina partiamo con la disciplina del nuoto, distanza di 750 metri distribuita su 15 vasche da 50 metri ciascuna con l'uscita dalla parte opposta al termine rispetto a quella di entrata passiamo al ciclismo, sono 20 km complessivi distribuiti su due giri da 10 km ciascuno il circuito tracciato dal comitato organizzatore è completamente chiuso al traffico sarete comunque assistiti dalla polizia locale e dal personale della protezione civile a terra si raccomanda comunque la massima prudenza terza ed ultima disciplina è quella della corsa ai 5 km su giro unico misto asfalto sterrato attenzione ovviamente c'è una parte in cui ci sono dei lavori in corso è transitabile senza alcun problema però è doveroso segnalarlo e chiedervi prudenza vi ricordo che nel tratto di running il ristoro è posizionato esattamente a metà percorso